Buonasera a tutti, sta per iniziare l'incontro Barbari e nuove barbarie. Interviene Davide Giacalone, giornalista e scrittore. Ha lavorato al fianco di Vincenzo Muccioli nella battaglia contro la droga. Dal luglio 1981 al novembre 1982 è stato capo della segreteria del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 1987 all'aprile 1991 è stato consigliere del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni. Dal 2003 al 2005 è Presidente del DigiClub, Associazione delle Radio Digitali. Nel maggio 2010 ha ricevuto l'incarico di presiedere l'Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie dell'Innovazione. Dal 2015 al 2016 è membro dell'Advisory Board di British Telecom Italia. E' inoltre autore di numerosi articoli, studi e libri, tra cui Arrivano i Barbari, in cui si tratta dell'imbarbarimento. Non come un'invasione di questo o quel paese, ma come un sentimento diffuso, lungamente incubato, anche da quanti oggi lo subiscono, capace di scuotere le democrazie occidentali. Grazie e buon ascolto. E' finita l'introduzione. Allora, grazie di avermi invitato. E' un piacere essere qui. Io ho visto Mario Caligiuri, la prima volta che sono arrivato a Soveria Mannelli, era sindaco Mario Caligiuri. Poi sono passati molti anni ed era sindaco Mario Caligiuri. Stento a credere che non sia sindaco Mario Caligiuri. Era molto tempo fa e ho imparato a conoscere Soveria Mannelli come un posto di straordinaria vivacità culturale interessante. E poi è la sede dell'editore col quale lavoro da moltissimi anni, Rubettino, col quale mi trovo benissimo. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto assieme per l'appunto Arrivano i barbari è stato concepito e scritto a cavallo delle ultime elezioni politiche che, contrariamente a quello che qualcuno crede, non sono stati detenuti nel 1918, ma era il 2018, cioè l'anno scorso. E l'idea che si potesse dire arrivano i barbari alludendo, diciamo, in qualche modo la nuova maggioranza, ma in realtà schiarendo immediatamente nel libro che non era quella l'allusione. Certo, l'allusione non immaginavo, non immaginavo almeno io che le cose potessero andare come sono andate. Abbastanza paradossali, però in un paese non succede mai una cosa di questo. Noi dobbiamo cominciare a domandarci seriamente cosa ci sta succedendo. Non è pensabile, se noi guardiamo le cose in casa nostra, adesso ci arriviamo, ma un po' ci distraiamo. Non è pensabile che un grande paese come il Regno Unito faccia a cuor leggero un referendum, il cosiddetto Brexit, in cui di fatto si suicidano a cielo aperto. Cioè dicono, ce ne andiamo senza conoscere minimamente le condizioni. Poi per due anni si succedono governi che assicurano agli elettori, agli inglesi, scozzesi e irlandesi guardate che noi sicuramente ce ne andremo, ma non sappiamo esattamente come. Adesso siamo arrivati a due settimane dalla scadenza e non si sa ancora come, però la cosa importante è dire noi ce ne andremo. Il comportamento è totalmente irragionevole. Com'è possibile una cosa di questo tipo? Se loro andassero via così come la cosa si sta prospettando, cioè con un no deal, senza un accordo, la prima conseguenza che avrebbero, la troverebbero in casa loro. Cioè il Regno Unito diventerebbe disunito. La Scozia se ne andrebbe per i fatti suoi, in Irlanda si creerebbe un problema infinito. Cioè come avete potuto non considerare questo? Un altro paese, la Francia. La Francia dopo la riforma della Quinta Repubblica, riforma de Gaulle, era un paese abbastanza stabile nella composizione del suo mondo politico, perché c'erano i gollisti, c'erano i socialisti, poi c'erano le forze intermedie. hanno un sistema elettorale molto razionale, molto ragionevole, molto solido, molto efficace, il ballottaggio a doppio turno, e hanno sempre avuto la capacità di governare stabilizzandosi con il Presidente della Repubblica direttamente eletto dal popolo. Bene, guardate la Francia di oggi, non c'è più un partito politico. Tutta l'operazione che sta attorno al Presidente Macron è un'operazione che nasce dall'avere cancellato i partiti politici. Poi a secondo dei gusti c'è chi dice che Macron in realtà era socialista anziché essere gollista, però voglio dire a secondo dei gusti, di fatto i gruppi politici sono stati cancellati. Guardate la Germania, la Germania è il paese più solido d'Europa, è il paese che ha i governi più forti d'Europa. Ha un sistema presidenziale maggioritario? No, ha un sistema parlamentare proporzionale, come era quello italiano della Prima Repubblica, tale e quale. L'unica differenza fondamentale fra i due sistemi è che chi firma un accordo di governo in Germania il giorno in cui viene meno a quell'accordo lo deve spiegare agli elettori e non è facile spiegare che tu hai cambiato posizione. In Italia quando firmi un accordo con un partner di governo il più furbo è il primo che lo rompe e il risultato è la differenza di stabilità a un instabilità. Ma i tedeschi non hanno una maggioranza autosufficiente in capo a un solo partito dalla metà degli anni 50. Hanno sempre governato con qualità, come eravamo abituati nell'Italia della cosiddetta Prima Repubblica. Allora, che diavolo sta succedendo in questo mondo per cui è possibile che questi fenomeni diventino così dirompenti. Non parliamo degli Stati Uniti, sono un mondo diverso dal nostro, ma il morbo che hanno contratto non è poi così diverso da quello che abbiamo contratto noi. Il Presidente, eletto con meno voti popolari del suo concorrente, ma del tutto legittimamente nel secondo sistema di elezione del Presidente statunitense, Presidente a più basso gradimento, ma con i suoi, cioè chi lo gradisce è un fanatico trampista, chi non lo gradisce lo ritiene un danno per il Paese. Cosa che non si era mai vista in passato in questi termini. Cosa è successo in questo mondo? Beh, è successo, adesso parliamo in italiano dell'Italia, ma vale per altri Paesi che ho citato e altri ancora, è successo che non siamo mai stati, mai, così ricchi, così sani e così longevi come adesso. Nella nostra storia non c'è mai capitato di essere così ricchi, di vivere così a lungo e di essere così sani. Contemporaneamente siamo malmostosi, dubbiosi, pessimisti e riteniamo che il mondo nel quale viviamo ha caratteristiche assolutamente pessime. Come siamo riusciti a ottenere questo straordinario risultato? Allora, vediamo. Ma è vero che noi siamo, non siamo mai stati così ricchi? Verissimo. Adesso non so se qualcuno di voi è discendente di famiglie nobiliari e latifondisti del secolo scorso, ma in media le famiglie italiane non hanno mai vissuto così bene come adesso. Ma c'è di più. Noi abbiamo un debito pubblico esagerato, patologico, di 2.400 miliardi, che sono tantissimi, ma abbiamo un patrimonio delle famiglie italiane che arriva a sfiorare i 10.000 miliardi. poco più della metà in beni immobili e poco meno della metà, cioè la rimanente parte, in investimenti finanziari, di cui 1.300 miliardi che in questo momento si trovano cash liquidi sui conti correnti nelle banche. Quelli che dicono ah ma lasciamo crescere il debito pubblico, bisognerà che avvertano gli italiani possessori di un patrimonio di all'incirca 10.000 miliardi che prima o poi le partite si compensano. Nel 1970 noi come in Germania avevamo un patrimonio medio delle famiglie italiane, medio, quindi c'è chi aveva di più e chi aveva di meno, mediamente avevamo un patrimonio che era pari a tre volte il reddito anno. Cioè quello che la famiglia possedeva era mediamente il reddito di tre anni. Esattamente come in Germania. Oggi in Germania hanno un patrimonio medio pare a sei volte il reddito anno, cioè hanno raddoppiato il loro patrimonio dal 1970 a oggi. In Italia? In Italia lo abbiamo triplicato perché abbiamo un patrimonio pari a nove volte il reddito anno. Cioè i ricchi patrimonialmente siamo noi, non sono i tedeschi. La differenza qual è? Non da poco. Che noi abbiamo spostato tutto a patrimonio e loro hanno spostato gran parte del denaro a produzione. Noi siamo diventati molto ricchi di patrimonio ma cresciamo molto meno perché i denari li investiamo più nella rendita, nel patrimonio che non nella produzione. e siccome poco più della metà di quell'enorme patrimonio delle famiglie italiane è dato da beni immobili su quel patrimonio immobiliare si abbatte un problema demografico che abbiamo ampiamente sottovalutato nelle nostre stesse famiglie. In fondo non solo la vostra famiglia ma insomma nel caso della mia sicuramente si stava il nonno stava in una famiglia e ci faceva cinque figli. I cinque figli nella stessa identica casa i maschi quando si sposavano prendevano a casa la sposa le femmine quando si sposavano andavano a casa del marito che significa in buona sostanza la casa patriarcale del suocero. Poi è arrivato il boom economico è arrivato lo spostamento nelle città quindi le famiglie sono diventate mononucleari all'epoca la famiglia allargata non era un concetto culturale era semplicemente che si stava in tanti nello stesso posto e si avevano economie di scala per esempio per accudire gli anziani e per accudire i bambini poi le famiglie sono diventate mononucleari abbiamo comprato la casa in città ma il progresso economico è continuato si è comprata la casa al mare o in montagna o in campagna a secondo dei gusti poi magari il figlio si è sposato a vivere da un'altra parte allora si è comprata la casetta il monolocale nell'altra città nel frattempo il nonno è trapassato però la casa non l'abbiamo venduta il risultato di questi passaggi generazionali è che si è partiti da una casa dove si stava in 4-5 famiglie e si è arrivati ad una famiglia che ha 3 o 4 case 2-3-4 case e ha fatto un solo figlio per cui quel figlio unico residuato di una storia in cui si facevano 5 figli poi 3 poi 1 quell'unico figlio è erede di un piccolo patrimonio immobiliare solo che quel patrimonio immobiliare per lui non è una ricchezza è un costo perché ogni tanto si sente dire in Italia ma metteranno la... perché è calcolata sui metri quadrati e il numero di abitanti non sulla quantità di spazzatura che producete quindi è una patrimoniale mascherata per giunta regressiva nel senso che 5 persone che abitano in 100 metri quadrati a pieno terra pagano di più di patrimoniale di una persona che abita da solo in 50 metri quadrati adlattico quindi diciamo così in qualche modo capavolgendo la progressività e rendendola regressiva questo ha portato che l'ultimo nato diciamo così l'erede finale di queste storie familiari è una persona che ha sulle spalle un patrimonio immobiliare considerevole ed è il primo che non ha un reddito fisso sicuro proiettato negli anni quello sarebbe l'uomo da tosare nel caso in cui mettessimo la patrimoniale sugli immobili non ce li ha i soldi per pagare gli puoi mettere tutte le patrimoniale che vuoi non ce lo la può pagare non esiste dici vabbè ma allora a quel punto vende l'immobile il cielo ci scansi perché se tu inneschi una vendita di immobili per pressione fiscale cioè per pressione patrimoniale ottieni l'unico risultato di deprezzare un pezzo del patrimonio degli italiani cioè senza muovere foglia solo per il gusto di metterle sul mercato i quasi 10.000 miliardi diventano 9.000 per il semplice motivo che tu sei sempre proprietario degli stessi immobili ma che hanno perso valore perché hai provato a venderli in un momento in cui non trovavi acquirenti quindi meglio evitare stocchi di questo tipo allora la domanda che dobbiamo porci è un'altra ma come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto della leva demografica guardate che noi l'Italia era il paese più prolifico d'Europa e dentro l'Italia il sud d'Italia era la parte più prolifica d'Italia oggi l'Italia è il paese meno prolifico d'Europa e il sud fa meno figli di quanti non se ne facciano al centro nord come come ci siamo arrivati se provate a domandare in giro la risposta sarà stereotipata è sempre la stessa non faccio figli perché non ci sono non c'è sicurezza per il futuro non faccio figli perché non ci sono lavori a tempo pieno e a tempo indeterminato non faccio figli perché la banca non mi dà il mutuo per comprare la casa che le banche riuscissero a diventare anche un anticoncezionale era una cosa che era sfuggiva agli studi d'economia ma che si è affermata poi nella realtà e questa spiegazione è talmente autoconvincente che non c'è bisogno di metterla in discussione solo che poi magari uno ci pensa un attimo e si ricorda che noi avevamo in Italia un tasso di natalità superiore nel 1943 1944 quando a una parte dei maschi stavano al fronte per cui qualcun altro provvedeva diciamo così in loro assenza b che ci fosse sicurezza del futuro in piena guerra mi sembra arduo da sostenere c che qualcuno avesse lavoro a tempo pieno indeterminato far ridere i polli e d che il problema non era se la banca ti dava il mutuo per la casa il problema era se ritrovavi la casa nel senso che c'erano i bombardamenti in corso per cui quando andavi al rifugio uscivi dal rifugio chissà se c'è ancora la casa in quelle condizioni la tasso di natalità in Italia era superiore allora questa spiegazione che ci siamo trovati del fatto che siamo poveri derelitti abbandonati non regge tant'è vero che se poi andate a guardare altri numeri scoprite che in Italia ogni anno si spendono per la prima infanzia 835 milioni di euro tra pannolini biberonne latte in polvere omogenizzati 835 milioni di euro sapete quanto spendiamo in un anno per gli animali domestici 2 miliardi e 600 milioni ora che delle persone ragionevoli sostengano davanti a un'altra persona ragionevole senza mettersi a ridere che non faccio un figlio perché non so se riuscirò a dargli da mangiare ergo compro un labrador è una roba da ricovero all'ospedale psichiatrico perché il labrador A mangia più del bambino B al contrario del bambino che a un certo punto impara a usare prima il vasino e poi direttamente la stanza da bagno il labrador te la fa lì davanti vita natural durante e tu se hai conservato ancora un po' di civiltà e di dedizione agli altri giri inchinandoti e raccogliendo quelle che adesso chiamiamo deiezioni trattasi delle cagate del suddetto labrador o di altre razze qualora voi abbiate altre preferenze oh vi informo che gli italiani dei 2 miliardi e 600 milioni la prima voce di spesa sono i gatti la seconda voce di spesa sono i cani ma la voce aggregata più grossa per all'incirca un miliardo e mezzo e la voce altri animali ma che ve tenete in casa perché sono esclusi i cavalli che non sono considerati animali domestici per l'ovvio motivo che non so che case avete ma normalmente vengono messi fuori e uno pensa ma davvero i canarini i pesci rossi riescono a mangiare così tanto e che sono molto numerosi e quindi devi comprare anche l'acquario la gabbia devi cambiargli l'osso di seppia 2 miliardi e 600 milioni ora un paese che spende 2 miliardi e 600 milioni per i cani i gatti i canarini i pesci rossi e l'iguana o il boa con quelle cifre e 835 milioni per i bambini e che si trova di fronte a una leva demografica di questo tipo e si racconta che lo fa per ragioni economiche è un paese dei matti allora cominciamo a essere persone serie qual è la differenza sostanziale a parte appunto l'uso del bagno tra un bambino e un cane è che quando alla fine devi andare in vacanza perché tu vai a fare il bagno alle Seychelles la gran parte di quelli che vanno a fare il bagno alle Seychelles non sanno dove sono le Seychelles c'è un'uscita all'aeroporto il cerchio gate Seychelles lo prendono quando si sbarca si scende si fa il bagno in mare più o meno come in Calabria però sei stato alle Seychelles quando vuoi andare alle Seychelles il cane lo metti al canile lo metti a casa di un amico o alle brutte se proprio diciamo così non lo vuole nessuno coroni questa storia d'amore e d'intesa tra te e il cane mollandolo all'autogrill il bambino te lo riportano cioè questa è la grande differenza il bambino tendono a riportartelo perché il bambino effettivamente è un'obbligazione diciamo di durata mediamente ventennale ma può trascinarsi oltre lo scorso governo riuscì a partorire l'idea che si dovessero dare contributi alle persone per crescere fino a 29 anni come dice a 29 anni io avevo già perso una parte dei capelli a quel punto è uno sforzino e ti diamo la pensione e quindi riesci a passare tutta la vita a carico degli altri ma per il genitore effettivamente mettere al mondo un figlio un'obbligazione mentennale quindi la grande differenza fra il cane e il bambino è il senso di responsabilità e la proprietà che io ho del mio tempo ma fosse fosse che noi ci troviamo in questa condizione perché ci siamo leggermente innamorati di noi stessi ciascuno di se stesso e ritiene che il proprio tempo e la propria libertà sia così preziosa da non potersi sacrificare diciamo sull'altare del mettere al mondo altra gente in fondo che hanno fatto i figli per me prima di nascere che devo fare sempre tutto io non è che fosse fosse c'è una forma di egoismo e di egotismo di egolatria poi uno dice ah ma guarda in televisione i politici sono tutti egolatri sì ho capito ma pure tu non scherzi voglio dire perché continui negli anni durissimi della crisi economica dal 2008 al 2012 2013 quando in Italia ci sono state manovre soprattutto nel 2011 2012 manovre assolutamente recessive e abbiamo avuto la recessione economica due erano gli esercizi commerciali che sono continuati a crescere i pet shop perché il rincoglionimento non vuole soltanto che tu hai come unico amico il tuo cane devi spingerti oltre gli compri il cappotto e l'impermeabile perché lo ami come si tanto che non ti sei accorto che la pelliccia è incorporata quindi i pet shop e i negozi di tatuaggi adesso lo so che se aprite la camicia siete tutti tatuati ma che vi ha fatto che ha fatto agli italiani il proprio corpo per dover meritare questa punizione oramai in televisione arriva gente che ha i tatuaggi che gli escono da qua una volta questa era l'attività prediletta dei galeotti e dei marinai di lungo corso che presi dalla noia mortale per non poter fare altro si disegnavano addosso delle cose tra l'altro molto più moderatamente di quanto non si faccia oggi oggi ci sono delle cose infinite che non finiscono disegni di tutti i tipi nomi cognomi tutto questo assomiglia un poco diciamo a un problema di auto-innamoramento per se stessi che sfocia nella follia totale questo auto-innamoramento fa sì che io non posso dividere con altri perché devo dividere con altri e questa forma di egoismo mi porta ad avere una società che invecchia l'egoismo però come spesso capita quando non è accompagnato come descriveva Adamo Schmitt nel primo capitolo della bellissima la ricchezza delle nazioni da un minimo di visione del futuro e l'egoismo porta ad auto-affondarsi oggi in Italia un italiano su cinque ha più di 65 anni fra 25 anni sarà un italiano su tre ad avere più di 65 anni perché non facciamo più figli e perché viviamo più a lungo la seconda cosa è positiva la prima oh vi segnalo che oltre a non fare figli è diminuita notevolmente la vendita di anticoncezionali in Italia quindi fatevi due conti nel mettere insieme le due cose non voglio darvi suggerimenti però questa è una cosa diciamo preoccupante e non è preoccupante per la diffusione della lussuria della copula è preoccupante perché c'è una ragione molto razionale è che dopo una certa età con gli anticoncezionali non ci fai niente risollevare la leva demografica dopo averla abbattuta dopo una certa età prendi qualcos'altro ma non hai bisogno dell'anticoncezionale questo significa che per risollevare la leva demografica sarà un problema serissimo adesso cancellate la lavagna di quello che abbiamo detto e guardate dall'altra parte il dibattito politico il problema più serio dell'Italia è come si fa ad andare in pensione prima ragazzi vi state pigliando per il culo per il semplice ragione che con questa leva demografica per me ci puoi andare quando ti pare in pensione e che a un certo punto non te la pagherà più nessuno nel 2050 noi avremo 105 pensionati ogni 100 lavoratori ma secondo voi è possibile che ogni lavoratore oltre alla propria famiglia mantenga un pensionato? non è assolutamente ragionevole non è immaginabile tanto è vero che il governo più anti-immigrati della storia d'Italia cioè il conte 1 porti chiusi non entra nessuno nei conti economici che presentava e cioè per la precisione nell'aggiornamento nel documento di economia e finanza lo potete andare a trovare nel sito del MEF è disponibile gratis nel senso che l'avete già pagato con le tasse quindi non vi fanno pagare un'ulteriore tassa per andarlo a leggere andatelo a leggere pagina 62 nota 40 perché i conti tornino dello stato sociale quindi anche della previdenza e dell'assistenza occorre che ogni anno in Italia entrino 165 mila nuovi immigrati hanno scritto loro e ha scritto un altro guardate non 165 mila l'un per l'altro 165 mila che vadano a lavorare perché se fai entrare e non vanno a lavorare non ci hai guadagnato una lira ogni anno 165 mila e poi diciamo no quei 18 non possono sbargare 50 no te ne servono 165 mila secondo i tuoi conti è possibile questo ma no che non è possibile è evidente è una finzione contabile ma è una finzione contabile che deriva dal fatto che quei conti non potranno mai tornare non può esistere un paese in cui ci sono più pensionati che lavoratori è chiaro questo? è evidente non è questione tu sei di destra sei di sinistra questa è la barbarie voler negare la totale evidenza delle cose e come è stato possibile ancora una volta che a opinioni pubbliche diverse quella inglese quella francese quella italiana abbiano potuto abboccare a delle storie totalmente irragionevoli irrazionali non basate sui numeri non basate su un racconto che non sia all'evidenza mendace come hai fatto ad abboccare? forse chezza che producevi e di cui potevi disporre e al tempo stesso aumentavi il deficit e il debito con i soldi che potevi distribuire ecco perché noi abbiamo un patrimonio delle famiglie che è cresciuto un terzo più di quello dei tedeschi che infatti hanno un debito pubblico al 60% noi ce l'abbiamo al 132% sta tutto a casa nostra c'è sempre la storia se ne è rubati quello il riscaldamento a casa mia non c'era l'aria condizionata a Palermo non c'è si usava il riscontro d'aria fai un po' di corrente e quando arrivava lo scirocco non fare niente butta giù tutto che abbiamo in casa un'aria leggermente più fresca che fuori aspettiamo che passi oggi non si campa senza l'aria condizionata quelle generazioni ricordavano il caldo ricordavano il freddo ricordavano la fame e riconoscevano il senso della ricchezza che cresceva le generazioni che sono venute dopo hanno perso il ricordo del dolore hanno perso il ricordo della difficoltà e hanno invece il ricordo del continuo aumento dei consumi non sempre accompagnati e sorretti dall'aumento del lavoro cioè tu hai lungamente consumato quello che non hai prodotto hai lungamente speso quello che non hai guadagnato e ti sei convinto che questo sia un tuo diritto di cittadinanza e in questo tuo diritto di cittadinanza sei pronto a dare il voto il consenso l'applauso l'entusiasmo a chiunque ti dica che queste tue condizioni hanno il diritto di dover essere rinnovate e se lo Stato non è in grado di garantirti il rinnovo di quei consumi non basati su produzione lo Stato ha il dovere di stampare il denaro come se ti magnassi il denaro come se uno dice stasera mi mangio cento lire mi mangio centomila lire perché sono tornato alla lira no non funziona così ma tu sei in grado ancora di crederci perché c'è l'ultimo scivolo per andare in pensione prima noi stiamo ancora mantenendo quelli andati in pensione a 14 anni 6 mesi un giorno e quando se lo sentono dire normalmente ti mandano subito i messaggi dicendo bladro stronzo io sono andato rispettato la legge non ho alcun dubbio che abbiamo rispettato tutti la legge non ho alcun dubbio su questo è la legge che era folle perché spostava sui lavoratori e sui contribuenti il costo del mantenimento di persone che sono andate in pensione vent'anni fa e che grazie al cielo camperanno ancora vent'anni quindi verranno mantenuti per un tempo che è doppio è superiore al doppio di quello che hanno lavorato ma che hai scoperto il petrolio a parte che se l'avessi scoperto non te lo farebbero estrarre perché si troverebbe nell'Adriatico hai visto mai che fai un buco sotto l'acqua che guasta l'ambiente poi c'è questo tra lì quindi anche se avessi trovato il petrolio l'avresti lasciato lì dov'è la cancellazione dell'idea della sofferenza del bisogno la cancellazione del dolore è forse la pretesa più disturbata mentalmente che noi abbiamo prodotto e che genera una società di irresponsabili al fondo molto di quello che viviamo c'è l'idea che se il popolo lo vuole e allora quella è la verità il problema sapete cos'è che noi possiamo domani mattina sottoporre al referendum l'abrograzione della forza di gravità così il popolo può finalmente spiccare il volo e al 98% possiamo plebiscitare la necessità e l'opportunità di abolire la forza di gravità la mattina dopo averlo deliberato furor di popolo se vi buttate dal settimo piano io vi garantisco che vi sfraccellate sul marciapiede sotto l'ipotesi che qualcuno riesca a volare è pari a zero ma il popolo ha deciso ma ci sono cose che non sono sottoposte alla tua decisione non sono sottoposte alla tua volontà avere ingannato la gente dicendo la sovranità popolare è una sovranità totale significa tra l'altro averli tirati fuori da scuole dove non hanno imparato una legge fondamentale della storia che tutti i sovrani assoluti perdono la testa quando è uno la risolviamo facile nel senso che ne tagliamo una di testa quando è una collettività è una strage di sofferenza tutto questo tutto questo l'abbiamo portato e concludo sono a vostra disposizione se volete approfondire questo o quell'aspetto tutto questo l'abbiamo portato riprodotto a danno dei nostri figli tappate orecchie ragazzini perché l'Italia che ha conosciuto la sofferenza l'Italia che ha conosciuto la miseria il dolore era un'Italia in cui il padre perché la madre solitamente era buona quindi toccava al padre fare un mestiere che è quello del padre il padre andava a parlare con i professori e gli diceva bastonatelo picchiatelo quindi esagerava perché mio figlio non deve fare la vita che ho fatto io deve conoscere deve sapere deve studiare perché non deve fare la vita che ho fatto io era un'esagerazione sì era un'esagerazione però oggi se un docente si permette di dare quattro in una qualche materia parte una delegazione da casa sindacale capitanata da padre madre lo zio burbero la cugina pazza e vanno a picchiare il docente lei come si permette di aver mai dato un cattivo voto ma le pare possibile ci sono anche dei fondamenti di ragionevolezza in questo voi sapete bene che se uno accende il televisore e sente parlare un numero cospicuo di governanti che sono ancora convinti che il congiuntivo sia un'infezione che prenda gli occhi che si cura con delle apposite goccine e che il condizionale è una facilitazione uno sconto di pena non un tempo verbale pagare l'insegnante dice scusi ma guardi io ho dovuto dare quel cattivo voto perché il pargolo in classe disturba e violento si esprime con le parolacce e beh c'è gente che è arrivata al governo dicendo vaffanculo e mio figlio non deve prendere la licenza media la licenza media superiore solo perché ha detto qualche parolaccia questa forma di copertura di preteso amore per i figli è una roba di una corruttela pazzesca è una furto ai loro danni e poi i risultati si vedono perché se quando siete a guardare i test in Valsi e Pisa si arriva all'esame di marturità con una media nazionale del 35% di gente che non sa leggere e capire un testo complesso dove per testo complesso si intende la differenza che c'è fra vietato attraversare i benari e vietato attraversare i binari altrimenti sarà combinata una sanzione ai sensi che stai dicendo fino al vietato attraversare i binari ti seguivo la frase è troppo lunga troppo complessa cerca esprimiti parla come mangi che era la famosa cosa il problema è che tu mangi senza sapere parlare questo è il grosso problema quella percentuale del 35% quando si scende sotto Napoli sale al 50% ed è un furto non parliamo poi della matematica non parliamo delle lingue straniere peraltro quasi sempre insegnate a cura di diciamo così perversioni dialettali nostre che non hanno pressoché nulla a che vedere con l'idioma che viene insegnato questa roba qui è uno straordinario furto ai danni dei ragazzi ma che viene fatto con la copertura delle famiglie e vi invito a controllare con i vostri figli con i nipoti l'apparato delle favole che vengono raccontate forse vi aiuta a capire di più del mondo nel quale viviamo perché le favole di oggi sono tutte non bisogna raccontare ai bambini cose troppo tristi non bisogna mettere di fronte a roba traumatica voi ve lo ricordate Pollicino tutti ricordano le mollichine però la storia di Pollicino era una storia Pollicino aveva sei fratelli mamma e papà non avevano di che dargli da mangiare per non vederli morire di fame a casa cuore di mamma e papà li portavano al centro del bosco in modo tale che rimanessero lì e crepassero lontano dagli occhi di mamma e papà solo che Pollicino trovava sempre il modo per tornare a casa fino a che dice che bello che siete tornati torniamo nel bosco vi riportavano in un altro posto così moriranno tutti da soli fino a quando finalmente Pollicino non c'ha altro che le mollichine di pane gli uccellini mangiano le mollichine di pane e Pollicino e i sei fratelli sono fottuti ma Pollicino non si dà per vinto cerca una via d'uscita e la trova la casa dell'orco nel bosco la casa dell'orco nel bosco c'è però l'orchessa l'orchessa è una brava donna dà da mangiare a Pollicino e i suoi sei fratelli e li mette a dormire però l'orco e l'orchessa hanno sette figlie sette figlie che hanno un cappellino per dormire Pollicino è furbo dice qua finisce male cambia i cappellini l'orco infatti torna di notte dice cosa c'è in questa casa ci sono le sette bambini ah va al buio vede quelli con sette cappellini che non sono quelli dello sotto figlio li scanna tutti e sette e comincia a mangiarci a noi ce la raccontavano per farci addormentare cioè la morale della favola era a un certo punto era vabbè e Pollicino poi riusci adesso dormi perché stai contento perché al contrario di Pollicino qua ti abbiamo dato da mangiare ti vogliamo tutti bene nessuno ti porta nel bosco tu fai la cortesia ad addormentarti così mamma e papà finalmente c'erano dieci minuti per litigare per i fatti loro danno in un'altra stanza e chi è che oggi cresce i figli con questa roba è tutto Walt Disney e infatti incontrano l'orso nel bosco e si domandano perché non fa come Bubu che vuole la merendina e invece quel disgraziato saccanisce contro gli esseri umani come se fosse un orso voglio dire cioè la percezione della realtà è una realtà dove siamo tutti assolutamente buoni dove il lieto fine è sempre perpetuamente raccontato il nostro non lieto fine veniva dopo tante soffere bisogna conquistare Pinocchio una storia feroce Hansel Gretel è una storia feroce non è che vi voglio raccontare tutte le vere se non vi addormentate prima che vi addormentiate voi non vi racconto tutte le faune ma è istruttivo provate a ricondurre quel tipo di narrazione educativa per l'infanzia a quello che facciamo oggi questa è la barbarie avere pensato di sfuggire di cancellare il dolore della vita propria e dei propri figli laddove all'opposto il dolore è parte della vita e l'abilità consiste nell'affrontarlo superarlo e naturalmente godere 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 e consumare produrre quanto più possibile nella vita ma pensare di cancellare il negativo e che ci sia lo Stato lo Stato deve mantenermi lo Stato deve soccorrermi lo Stato deve accudirmi questa è una malattia profonda che ha ammazzato intere zone del paese noi ci troviamo nel sud io sono siciliano ve l'ho già detto che ha subito questo tipo di incultura ma che come diceva un grande siciliano Leonardo Sciascia è come la linea della palma piano piano si espande verso il nord e non immaginava Leonardo Sciascia che un giorno a Piazza Duomo a Milano avrebbero messo delle palme a decorare una piazza che normalmente non era diciamo così propensa ai palmizi questo è il nostro problema dopodiché possiamo risolverlo dicendo è colpa di questo è colpa di quello è colpa dell'Europa è colpa della Germania è colpa dei mercati è colpa della globalizzazione è colpa di Salvini è colpa di Renzi ma forse qualche responsabilità sta in capo a ciascuno di noi anche perché chi non è mai responsabile di niente ha una straordinaria caratteristica che è una persona che non ha mai nessun merito quello che non è mai responsabile di niente è quello che nella vita non ha mai fatto niente né di buono né di male e io non saprei descrivere una vita peggiore di questo tipo qua vi ringrazio c'è un padrone di casa se non c'è se c'è qualcuno che vuole porre delle grazie Davide sei stato come sempre bravissimo ironico corrosivo e quindi cominciamo a farti cominciò io a farti qualche domanda l'Europa noi siamo cresciuti nel almeno a scuola ci insegnavano di questa bellissima costruzione che era l'Europa i padri fondatori la grandezza e il futuro dell'Europa poi ci siamo trovati improvvisamente con un nemico che era l'Europa che era lo dicevi lo accennavi pure tu poco fa è quasi la madre di tutti i nostri problemi e poi abbiamo imparato a chiuderci abbiamo imparato a guardare alle altre sponde del Mediterraneo Shabba che parla di Mediterraneo quindi mi piacerebbe anche un tuo un tuo giudizio su queste chiusure di cui in qualche modo la barbarie in cui la barbarie entra quindi questa Europa da un lato questo Mediterraneo dall'altro questo grande popolo che doveva essere aperto che all'improvviso si è trovato chiuso qual è il tuo punto di vista su questo poi se ci sono altre domande le raccogliamo grazie una delle cose che si dicono più spesso è che l'Europa ha garantito la più lunga stagione di pace per noi europei è vero fino a un certo punto perché quello che ha garantito la più lunga stagione di pace a noi dell'Europa occidentale è la divisione del mondo in due blocchi è la guerra fredda che è partita con la fine della seconda guerra mondiale c'è un pezzo d'Europa di europei che non hanno avuto la nostra fortuna di trovarsi da questa parte della cortina di ferro sono stati dall'altra parte della cortina di ferro e sono stati in guerra la seconda guerra mondiale è iniziata per difendere l'indipendenza e l'autodeterminazione della Polonia e si è conclusa cedendo l'indipendenza e l'autodeterminazione della Polonia Gian Palak era un ragazzo che come tanti altri suoi coetanei voleva semplicemente avere diritto a potersi esprimere morì bruciando a piazza San Vincenzo la plaga perché la sua città il suo paese era stato invasa dai carri armati sovietici quindi non è che è tutto uno scherzo è tutto un gioco il nazifascismo è nato in Italia e in Germania noi abbiamo avuto la resistenza ma anche i polacchi gli ungheresi i ciechi hanno avuto la resistenza contro il nazifascismo ma alla fine della seconda guerra mondiale si trovano dall'altra parte quindi non è l'Europa che ha garantito questa lunga stagione di pace perché noi per lungo periodo per lunga stagione che va dal 1945 al 1990 si dice 89 per il crollo del muro di Berlino ma insomma al 90 abbiamo dovuto accettare la divisione da noi stessi nel caso dei tedeschi era un confine che passava all'interno dello stesso paese nel caso dell'Europa era un confine che passava all'interno dell'Europa e che ci divideva da fratelli europei abbiamo vinto noi ha vinto il mondo occidentale gli effetti fossili della seconda guerra mondiale e appena è stato possibile qualsiasi popolo dell'est ungheresi complesi che detto oggi fa quasi ridere appena è stato possibile sono corsi a voler entrare nell'Unione Europea perché l'Unione Europea era sinonimo di due cose bellissime la ricchezza e la libertà ripeto questo è stato noi ce l'avamo già prima ma non grazie all'Unione all'epoca mercato comune europeo comunità economica europea comunità europea e poi Unione Europea ma la guerra fredda gli altri sono arrivati dopo e allora che ci ha dato l'Europa l'Europa ci ha dato un'altra cosa l'Europa è stata un'altra cosa è stata il mettere in comune i nostri mercati il primo grosso bozzo fu la comunità economica del carbone e dell'acciaio cioè le materie prime per le quali erano nate le guerre mondiali insieme ad altre motivazioni il mercato unico ci ha reso infinitamente più ricchi ci ha reso più ricchi anche nel costo del nostro debito nel 1995 noi avevamo un debito al 120% del prodotto interno lordo e pagavamo di interessi il 9,5% del prodotto interno lordo una cifra spaventosa oggi noi abbiamo un debito che è pari a 132% del prodotto interno lordo cioè più alto molto più alto di quello che avevamo nel 1995 ma paghiamo il 3,5% di prodotto interno lordo di interessi questo grazie all'Unione Europea grazie alla Banca Centrale Europea grazie alle regole di bilancio dell'economia del bilancio ed economica europea qual è il problema del vincolo il problema che a Bruxelles mi dicono che non posso spendere più di quello che ho incassato ma mi pare ovvio scusa abbiamo in tasca la stessa moneta ma tu pensi veramente quando hai deciso che vuoi continuare come prima ciao ragazzo non c'è problema te ne vai non è questione guarda quello che succede nel Regno Unito magari un attimo prima di avventurarti ma fallo la mattina dopo il tuo debito che è al 132% non ti costerà il 9,5% che ti costava il 120% ti costerà il 12% cioè ti costerà 4 volte quello che stai pagando adesso poi che gli dici alla gente gli dici che quei 10.000 miliardi di patrimonio degli italiani sono una parte del frutto del tuo debito quindi te lo riprendi indietro solo che siccome quasi nessuno vorrà indietro il cesso di casa prenderanno i liquidi che sono l'unica cosa effettivamente sequestrabile l'immobile più difficilmente acquisibile nei conti dello Stato quindi questa raffigurazione dell'Europa come nemico è una raffigurazione retorica demenziale autolesionista è una geremia per dire sempre gli altri sono colpevoli di quello che ho fatto io questo significa che l'Unione Europea realizzata è perfetta no? non lo è ovviamente tra l'altro non conosco nessun sistema istituzionale creato dall'uomo che sia perfetto e vi devo dire che adoro l'imperfezione perché tutti quelli che gli è venuto in mente di proporre agli altri qualcosa di perfetto normalmente hanno prodotto morte e miseria quindi io grazie io gradisco largamente l'imperfezione l'imperfezione è una cosa che si migliora o peggiora secondo dei casi giorno dopo giorno nel caso per esempio del confini dell'immigrazione cosa abbiamo imparato abbiamo imparato che noi abbiamo creato un sistema Schengen che funziona meravigliosamente e che ha anche delle regole interne che relative all'immigrazione che funzionano perfettamente se arriva una persona che vuole entrare in Italia anziché in Francia anziché in Germania e vuole farlo illegalmente è del tutto ovvio che il paese dove arriva è responsabile della sua identificazione del suo blocco e solo se il paese dove lui è arrivato lo autorizza quindi regolarizza quella posizione potrà spostarsi liberamente come le merci come le persone all'interno dell'area di Schengen funziona benissimo perché non funziona e il problema è che era stato concepito per uno dieci cento mille persone che fanno quando alla frontiera ti si presenta un numero spropositato di persone quel sistema non funziona più non funziona più perché è concepito sulla violazione individuale del diritto di frontiera non sulla violazione di massa e allora la redistribuzione non funzionerà mai dobbiamo chiedere la corresponsabilizzazione la corresponsabilizzazione però significa maggiore sovranità in capo a ciascun paese maggiore sovranità europea quindi minore sovranità nazionale io per esempio desidero una giurisdizione europea sul diritto di asilo tanto lo so che quando si deve scegliere a chi dare o a chi non dare asilo si commettono degli errori lo so lo so benissimo basta tutti gli esempi mi dicono che si commettono degli errori ecco perfetto siccome l'area è comune l'errore commettiamolo insieme e indovineremo anche insieme non farlo fare a me o agli spagnoli o ai greci o a qualcun altro quindi noi italiani siamo stati lasciati da soli come si dice spesso col cavolo perché forse chi lo dice si è perso o nasconde un pezzo della nostra storia recente perché fino a quando l'aggressione le nostre coste era una patologia normale ivi comprese gli albanesi perché ancora benché di massa rientrava una patologia normale tanto è vero che siamo riusciti a risolverla molto in fretta e l'abbiamo risolta come? che qual è stato il colpo di genio c'è stato il colpo di genio abbiamo aperto col governo dell'Albania un dialogo diretto dicendo ragazzi adesso facciamo che c'è lavoro anche da voi facciamo che collaborate con noi voi vi ripigliate questi qui e gli trovate qualche cosa da fare perché non è che me li potete mandare con le navi qua quando la cosa è arrivata da sud l'Italia ha fatto il seguente mestiere prima ha detto vabbè ci penso io poi ha detto ci penso io ma mi dovete dare i soldi all'Unione Europea perché affronto delle spese per far fronte a un problema comune arrivavano i soldi noi facevamo entrare le persone le mettevamo nei centri d'accoglienza ci inventavamo che non volevano dare la loro identità e poi li facevamo defluire tanto quelli lì non volevano fermarsi in Italia volevano andare in Germania in Austria e quindi noi li facevamo tranquillamente defluire quando gli altri ci hanno fatto osservare che questa era una violazione palese delle regole all'interno dell'area di Schengen molto pericolosa vedo cari giuri nel suo nuovo mestiere da quando ha smesso di fare il sindaco molto pericolosa perché in quel modo fai circolare persone di cui non sai esattamente qual è la natura e qual è la finalità di presenza sul tuo territorio la gran parte sono dei disperati ma che ne sai cosa ci viene nel mezzo allora quando hanno detto guardate questa storia deve finire a parte tutte le geremiadi sul confine con la Francia ragazzi se sono illegittimi vanno dall'altra parte vengono respinti succede la stessa cosa da questa parte se vi rimangono due ore di tempo cercate su internet e guardatelo perché si può guardarlo non ci sono più di autore quindi è legittimamente gratis il cammino della speranza uno straordinario film di germi e guardate qual era la condizione dell'immigrazione illegittima e illegale degli italiani degli italiani che erano persone per bene anche se nel film come capitano in realtà uno dei protagonisti in realtà è un assassino e l'altro è un delinquente ma capita quando ci hanno detto questa storia non può più funzionare e allora abbiamo detto va bene li treniamo dentro il nostro paese ma siamo al governo Renzi ci concedete l'elasticità cioè noi ci teniamo gli immigrati ma voi ci concedete di fare più deficit che significa mettere sulle spalle degli italiani più debito che già all'epoca qualcuno sottoscritto sostenevamo ma che razza di scambio è scusa cioè io mi tengo un problema di tutti e in cambio mi prendo pure più debiti dice ma i debiti mica ti hanno costretto a farlo e infatti sei un doppio incosciente poi questa storia ovviamente è arrivata anche questa al capolinea perché tu l'elasticità elasticità elasticità sei arrivato al 182% di debito sul prodotto interno lordo ed è arrivata l'idea chiudiamo i porti oh il problema ci sono due cose che sono fuori dalla realtà a volemose bene e venite tutti b volemose male e non venga nessuno falso l'una e l'altra cosa non è possibile fuori dal mondo non è vero che si potrà bloccare la frontiera e non è vero che può passare chiunque per il semplice motivo che esistono anche delle capienze materiali il tema serio duro cinico è sceglierli che è una guardate che è un scegliere è un verbo molto ruvido perché stiamo parlando di esseri umani ovviamente ma infatti io non scelgo chi salvare e chi dannare io devo scegliere chi mi serve e chi non mi serve esclusi i profughi perché il giorno in cui riusciremo anche a dire che non devono entrare i profughi il paese che collaborò a creare gli ebrei in fuga quel giorno la vergogna di se stessi non potrà più avere confini cioè quel giorno bisognerà sputarsi in faccia la mattina quando ci si sveglie quindi esclusi i profughi anche lì ovviamente c'è un termine di capienza materiale ma esclusi i profughi in termini di diritti rimane il tema di scegliere chi mi è utile e chi non mi è utile alla produzione al lavoro come hanno fatto i tedeschi come hanno fatto i tedeschi che infatti funzionano e continuano a crescere pensare di scaricare che l'Europa sia diventata da quella dei padri fondatori cioè vi ricordate Prodi entriamo nell'euro lavoreremo di meno e saremo più ricchi ma neanche Paperonte Paperoni erano mai riusciti a sostenere una cosa di questo tipo e dall'altra parte sono loro i responsabili delle nostre difficoltà economiche i responsabili delle nostre difficoltà economiche siamo noi l'Europa è un enorme aiuto ma non può essere la soluzione di tutti i nostri problemi dobbiamo provvedere in proprio cioè bisogna diventare adulti l'italiano adulto peraltro in Europa conta moltissimo vi significo che dal 1912 scusate dal 2012 avevo messo un po' dal 2012 a oggi la storia d'Europa l'ha scritta un italiano e si chiama Mario Draghi apprezzato pressoché ovunque tranne che in Germania perché giustamente ce l'hanno sul gozzo e in Italia perché siamo un popolo abbastanza strano allora vediamo se ci sono domande le raccogliamo volevo dire invece di dire sempre che la domanda all'inverso voglio fare l'Europa ha bisogno dell'Italia invece che dire noi italiani abbiamo bisogno dell'Europa e poi un'altra cosa oggi i nostri figli ci accusano che la nostra generazione ha consumato tutte le energie e tutti i presupposti per lasciare a loro qualche eredità che oggi loro non hanno e quindi sono stati costretti ad avere un titolo di studio certamente ma a dover emigrare per trovare lavoro quindi la colpa sarebbe nostra perché le nostre scelte del passato non sono state oculate e quindi abbiamo sprecato tutto ciò che serviva per noi e non abbiamo pensato a loro è vero questo? L'Italia ha bisogno dell'Italia l'Italia è un protagonista del Mediterraneo l'Europa senza il Mediterraneo è una deriva scandinava non ha senso la mette l'Europa da sola crea crea problemi quindi l'Europa latina l'Europa mediterranea è un pezzo assolutamente fondamentale della storia e della realtà europea se i popoli del Mediterraneo e quindi in particolare gli italiani i francesi i spagnoli se ne rendessero conto e sapessero contare su questa loro affinità e comunanza di interessi sarebbe meglio comunque certamente l'Europa senza l'Italia non esiste per tante ragioni ma non esiste quindi siamo necessari naturalmente il fatto di essere necessari non comporta di avere un tale potere di ricatto che fate come dico io o me ne vado perché vattene subito e facciamo prima perché esistevano già le leghe dei paesi anseatici esisteva la mitte Europa lo possono rifare domani mattina ma l'Unione Europea così com'è è la più grande potenza economica del mondo noi siamo una potenza economica superiore agli Stati Uniti non parliamo della Russia che è una caccola la Russia ha un prodotto interno lordo inferiore all'Italia non si può misurare con l'Unione Europea è un'area enormemente più ricca della Cina ma la Cina cresce più in fretta si cresce più in fretta partendo da molto più indietro ci metteranno altri cento anni per arrivare al reddito pro capite che facciamo noi sempre che noi nel frattempo non si sia riusciti a arretrare quindi l'Europa non è una grande potenza militare l'Europa indovina perché avendo prodotto due guerre mondiali non è proprio il posto più adatto per allocare però ci sono forze militari importanti c'è la force de frappe francese cioè l'armatomica francese c'è una forza militare molto significativa del Regno Unito che dal punto di vista industriale si suicida uscendo dall'Unione Europea perché i sistemi d'arma non saranno più interscambiabili cosa che dal punto di vista economico non suicidio l'Italia che noi descriviamo sempre le nostre forze armate come se fosse sempre Caporetto o la botta di Chiappe di Vittorio Veneto voglio dire oggi le nostre forze armate hanno una capacità tecnologica di intervento assolutamente diciamo di primissimo livello fino a che gli spagnoli sono cresciuti i tedeschi hanno una realtà molto diversa grazie al cielo rimangono dove sono che è meglio così però non è una forza unita militare per tante ragioni storiche circa la seconda parte cioè la questione dei giovani no noi non l'abbiamo consumata noi abbiamo commesso molti errori e le generazioni più anziane lasciano un debito pubblico eccessivo ma su questo non c'è dubbio che sarà un grosso svantaggio ma quel gruppo quel debito eccessivo se smettiamo di farlo crescere certo che se uno si inventa il reddito di cittadinanza il quota 100 ha deciso di farlo crescere ogni giorno ma se noi smettiamo di farlo crescere e riprendiamo la via dello sviluppo economico nel tempo il debito si consuma da solo non è che c'è un posto dove gli italiani l'Italia deve andare a pagare il proprio debito deve essere nel tempo nelle condizioni di emettere sempre meno titoli di debito e quindi nel tempo prosciugare non il 100% ma riportarlo a un ragionevole 70% che pur sempre è la metà di quello che abbiamo adesso sulle spalle però quella non c'è dubbio che è un'eredità negativa assieme a questa eredità negativa però ai ragazzi di oggi noi lasciamo un mondo che è infinitamente migliore di quello nel quale siamo cresciuti noi infinitamente migliore è un grande mercato mondiale noi avevamo sì e no dei mercati provinciali e orionali hanno un'apertura del mondo che è straordinaria possono andare ovunque possono andarci con le borse di studio possono andarci con l'occasione di lavoro possono andarci con gli scambi culturali noi non avevamo questa possibilità se studiano hanno la possibilità di parlare le lingue quanto noi non avevamo la possibilità non abbiamo avuto la possibilità qualcuno più facoltoso ma non abbiamo avuto la possibilità di praticarle in tenera età andando in giro per il mondo non c'è alcun dubbio che il mondo nel quale loro vivono è un mondo diverso è migliore è un mondo nel quale bisogna smettere di parlare di cervelli in fuga intanto perché il problema sono i coglioni che rimangono e non i cervelli che vanno via ma perché soprattutto in un mondo aperto è bene che ciascuno cerchi le proprie opportunità e le proprie occasioni di vita ovunque si presentino non è un problema di fuga se i ragazzi italiani vanno a cercare altrove la fortuna della loro vita mi va benissimo il dramma è se non arrivano persone di uguale qualificazione in Italia a cercare fortuna compresi ovviamente i giovani italiani che in maggioranza rimarranno qui mica se ne andranno da un'altra parte cioè se io esporto ingegneri e importo raccoglitori di pomodoro in nero è chiaro che ho scelto un meccanismo un sistema economico che è impoverente ma e questo è un tema delicato molto inviso anche al mondo dell'industria del mondo produttivo ma se noi guardiamo le migrazioni interne intanto gli italiani che ogni anno escono dall'Italia sono un numero superiore degli stranieri che entrano ma noi parliamo solo degli stranieri che entrano e non degli italiani che escono e parliamo degli italiani che escono come se fossero in fuga dall'Italia in realtà la nostra emigrazione è ancora oggi un'emigrazione da sud verso nord alla ricerca del posto di lavoro dell'occasione di lavoro perché nel centro nord d'Italia al netto delle crisi industriali che potete vedere in televisione ogni giorno la disoccupazione non c'è chi vuole lavorare il lavoro lo trova e quindi siccome invece nel nostro sud la disoccupazione c'è e taluni di quelli che vogliono lavorare non ci riescono si spostano verso nord ma al tempo stesso noi abbiamo un'emigrazione dal centro nord dal sud e dal centro nord verso l'estero ora non è solamente i ragazzi che vanno a fare il cameriere a Londra che uno dice ma se devi fare il cameriere allora perché non lo fai direttamente a casa tua perché lì paro le lingue no il problema è un altro è che se tu sei specializzato per esempio se ti sei specializzato in economia e finanza la dimensione dell'impresa produttiva italiana media è troppo piccola per utilizzare competenze specialistiche in economia e finanza io ho bisogno di grandi imprese ho bisogno di grandi gruppi che fanno consulenza fiscale finanziaria alle grandi imprese se io ho un tessuto di piccole e medie imprese di cui noi andiamo orgogliosissimi che è una cosa importante ma sono un tessuto nel quale non potrai mai assorbire professionalità di alta qualificazione per esempio nella finanza perché non sai che fartene tu c'hai bisogno del commercialista e del ragioniere degli altri non sai cosa fare e allora questi siccome invece sono formati per fare altro vanno fuori ed è questo è questa l'emigrazione che mi preoccupa non perché se ne vanno ma perché segnalano il fatto che il tuo tessuto produttivo è rimasto a dimensione troppo piccola e se voi guardate i casi specifici perché se non bisogna sempre stare sempre per aria se voi guardate l'Italia ha un punto di leadership nel mondo nella cantieristica navale ma se guardate dentro l'Italia molti cantieri navali hanno chiuso giustamente bene che siano falliti perché quello che c'era il cantiere navale perché glielo aveva lasciato il padre o il nonno non puoi continuare tutta la vita avere la dimensione di chi fa cinque barche l'anno e il resto fa manutenzione perché se fuori mercato noi abbiamo una posizione di leadership nel mondo con la cantieristica delle grandi navi fincantieri la cantieristica dei grandi yacht fincantieri San Lorenzo e altre diciamo ditte che hanno posizione di leadership per la qualità per la qualità oggi uno yacht di grande tonnellaggio di San Lorenzo consuma meno gasolio di quello che consumava il gozzo di una volta e questa è tecnologia si sente meno il mare e questa è tecnologia l'hanno arredato con le vasche jacuzzi a bordo dello yacht e il maxi schermo per guardare la televisione e questa è coglioneria di chi se lo compra però l'importante è che lo paghi voglio dire perché se uno riesce a pagare quelle cifre per andare al centro del mare e fare il bagno nella jacuzzi guardando la televisione secondo me appartiene al mondo dei rincoglioniti però a me basta che mi paghi lo yacht e quella roba lì l'Italia e poi abbiamo una leadership nel settore delle piccole imbarcazioni ma sempre di luso cioè sempre imbarcazioni importanti per andare in mare ma più piccole di tonnellaggio dove conta moltissimo la tecnologia dello scafo gli altri cioè i francesi i norvegesi li abbiamo lasciati gli americani li abbiamo lasciati indietro quindi contemporaneamente hai fatto crescere le grandi aziende e hai chiuso una marea di piccole aziende che facevano una ricalata la ricalata durante l'inverno e questo è giusto è bene che sia così lo specializzato in tecnologia navale o in finanza lo porti solo sulla grande azienda sulla piccola azienda ci metti il marinaio e quello che ha l'esperienza perché me l'ha insegnato mio nonno tempo poco vanno fuori in mercato io sono uno di quelli che mantengono i piccoli mercati per esempio gli artigiani delle pipe però ragazzi quando parliamo di grandi numeri e di grandi mercato l'Italia ha posizioni di leadership importanti così come nel campo della moda così come nel campo della meccanica così come nel campo della farmaceutica noi nel 92 93 abbiamo distrutto la farmaceutica italiana si è ripresa abbiamo ricominciato a crescere esportiamo che è una bellezza quindi i punti di forza che lasciamo ai ragazzi a parte che non li abbiamo fatti noi non è che li lasciamo dell'Italia di oggi per i più giovani sono punti di straordinaria forza ma che richiedono altissima specializzazione la fregatura che gli abbiamo dato è quella che consegnando un mondo di questo tipo dove ci vuole altissima specializzazione quando parliamo della scuola ci occupiamo di dire che ci sono ancora i precari da stabilizzare in attesa e bisogna assumere quelli ok e continuiamo a produrre analfabeti per i prossimi anni solo che quegli analfabeti non riusciranno ad entrare in quel mondo del lavoro e quindi o gli dai il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza oppure un giorno verranno fuori casa dicendo io che mangio da avresti dovuto imparare qualche cosa ma questa la responsabilità è più questa che non la condizione produttiva ripeto che non è poi così nera come la si descrive e l'ignoranza che è peggiore di quella che la si descrive anche perché se sei ignorante manco la capisci a proposito di immigrazione c'è anche qualche immigrato di qualità che viene in Calabria fa una domanda il professor Tullio Barni che è anatomista dell'università Magna Grecia di Catanzaro Toscano immigrato in Calabria da vent'anni quindi qualcuno arriva pura io sono perfettamente d'accordo con lei però volevo fare due riflessioni quello sulla scomparsa del dolore no? che è condivisibile però forse ho capito male ma insomma non la presenterei come una condizione di responsabilità di moralità maggiore dei nostri genitori nei confronti delle nostre generazioni per due motivi perché loro il dolore lo hanno conosciuto perché gli hanno fatto la guerra in guerra c'erano andati loro il fascismo o il comunismo 12 milioni di kulaki 6 miliardi 6 milioni di ebrei non li abbiamo fatti noi poi si sono trovati in guerra con il dolore e lo dovevano gestire la mia mamma la diceva e ci si voleva tutti bene si lasciava la chiave nella toppa dell'uscio e voglio dire anche i ricchi non avevano nulla non è che oppure ora andate sempre in discoteca il tubabbo se voleva ballare con me faceva 12 chilometri a piedi e non c'aveva nulla cioè queste non sono scelte morali sicché io non farei queste discriminazioni generazionali i geni sono sempre gli stessi e la moralità l'è sempre la stessa poi un'altra cosa e chiudo lei giustamente ha detto ma qui siamo succubi di bufale come si fa a credere a tutte queste bufale facile e lei lo sa meglio di me perché lei conosce Daniel Kahneman pensieri lenti e pensieri veloci gli è il nostro cervello che se non è aiutato da l'unica sana scoperta dell'uomo 1600 Galileo che l'è la scienza gli è portato a credere perché anche lì lei cioè noi ci possiamo raccontare tutto quello che si vuole ma siamo sempre le bufale non nascono oggi quando studiavo io medicina ci dicevano che il il modello e lei era una bufala perché se voi ora andate in Cina ci sono le più alte tecnologie biomediche ma noi ci dicevano che bisognava essere simili ai medici scalzi oppure a noi ci hanno parlato in Italia delle convergenze parallele della terza via e mi fermo che noi tutti nel mondo siamo portati se non usiamo la razionalità la ragionevolezza ma perché non lo usiamo perché l'è giovane l'è nata nel 1600 invece il nostro cervello gli ha milioni di anni e in questi milioni di anni non c'era da decidere di giocare in borsa oppure tutte queste percentuali che il dottore ci ha detto e che magari voi andate a leggere un programma di un'assicurazione che capisce nulla ma non perché siamo stupidi perché in questi milioni di anni il cervello a che cosa doveva pensare a fuggire dai predatore e allora tu trovavi i pensieri veloci quando si va in campagna se tu senti frusciare e tu ti fermi e poi tu dici uh l'era una lucertolina ma tu ti fermi perché gli è meglio fermarsi perché se la fosse stata una vipera noi siamo figli di quegli che milioni di anni fa quando gli andavano in campagna sentivano il fruscio e si fermavano perché quelli che si fermavano sono morti sicché e chiudo io farei un discorso generale e che è questo la moralità l'è sempre stata uguale non c'è stato mai un popolo si dice no la cultura e noi rubettino è qui figuriamoci se io lo voglio contraddire ma un paese la cultura ti rende libero la cultura serve alla cittadinanza attiva allora Kant Goet Bach Beethoven Heidegger sono tedeschi e questi gli hanno ammazzato 6 milioni di ebrei con tutta questa cultura per cui ecco io direi le cose sono complessissime lei me lo insegna e dunque non farei gerarchie morali e poi sono d'accordo con lei e le rendo il microfono bisogna stare molto attento alla scuola perché l'unico antidoto a non cascare nelle bufale è solamente la scuola nella mia regione la Toscana dove non è che sono tutti analfabeti c'è la più alta concentrazione di antivaccinisti ok e che cosa vuol dire questo quello che diceva lei perché nessuno ha visto il morbillo le morti nessuno ha visto i bombardamenti dunque il dolore è scomparso e allora le morti da morbillo nessuno se le ricorda ora le ricomincia per cui la gente si può permettere di non scusate meno male che Florindo Rubettino ci aveva avvertito che lei era toscano se no non se ne sarebbe accorto nessuno lo dico lo dico io sono nato a Livorno la mia mamma era livornese quindi ci sono due aspetti uno è la conoscenza della realtà attraverso i numeri si può apparire in qualche modo maniacale però può darsi che ci sia qualche medico dotato di particolari capacità professionali non dico diciamo così sopranormali ma capacità professionali che sia in grado di guardarti negli occhi valutare l'incarnato e stabilire quali sono i tuoi problemi però è più facile che ti faccia fare delle analisi cliniche e le analisi cliniche si esprimono secondo dei numerini apparentemente delle fascezie per di tempo in realtà sono il modo che mi serve per capire qual è la tua condizione poi dal capire qual è la tua condizione a qual è la terapia e lì c'è la 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 crasi tra la scienza e l'arte medica perché non sono diciamo l'una assorbibile nell'altra è che la stessa cosa vale uguale uguale per le cosiddette scienze sociali non è molto diverso una cosa è sicura conoscere la realtà è un grande passo in avanti poi dopo e possono esistere più di diverse lei ha fatto un'osservazione relativa alla alla questione del dolore e alle generazioni poi in realtà ha recuperato esattamente lo stesso lo stessa diversità la stessa differenziazione fra generazioni perché è un fatto oggettivo l'avere conosciuto o no è il dolore non è una questione morale è un fatto oggettivo nella mia classe a scuola e nella mia famiglia ci sono persone colpite da poliomelite nella classe dei miei figli nella loro vita poliomelite non si sa neanche cosa sia questo fa sì che magari qualcuno possa andare in giro a dire a che serve il vaccino parla di poliomelite è disgraziato vieni a guardare quelli che c'erano in classe io erano stati colpiti da poliomelite questo non è una differenziazione morale è una differenziazione però è una differenza di fatto cioè tu quella realtà l'hai vista gli altri non l'hanno vista ora non è che bisogna avere incontrato Annibale o Cesare per riuscire a connor basterebbe studiare la storia se la storia non la trasmetti vuoi perché la scuola diciamo così tende pericolosamente all'analfabetismo vuoi perché nella narrazione quotidiana si cerca di togliere il dolore di togliere il brutto perché così siamo tutti più felici nella vita questo genera una una impressione che il mondo possa essere solo consumo e benessere e non è così non funziona così del resto non funziona così nei vostri reparti perché 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 il dolore c'è e infatti ci si è accorso prima o poi nella vita te ne accorso non è che lo puoi cancellare per sempre e all'infinito però lo puoi cancellare in qualche modo dalla storia collettiva e questo è un enorme male il punto più delicato lo lascerei sospeso perché è troppo complicato oltre a essere delicato e cioè assolutamente la cultura non è un antidoto alla mostruosità la cultura non è un antidoto alla mostruosità c'è un libro impressionante è sentito alle benevole che è un un viaggio che che viene proposto nella narrativa nelle idee dei nazisti vista con gli occhi di un nazista ed è un cammino terribilmente razionale cioè ti metti di fronte al problema che non è il male del mondo è una cosa razionale tu in un canile selezioni gli elementi più forti e abbatti i cani più deboli non perché non ami i cani ma perché li ami e vuoi che siano forti ed è un processo razionale che l'allevamento fa dalla notte dei tempi perché questo deve essere vero in una parte e non deve essere vero invece fra gli esseri umani perché noi non dobbiamo amare gli esseri umani al punto da volere per loro sempre il meglio e che siano migliori e chi ci dice che non sia quella la strada per essere migliori la selezione della specie e chi ci dice che non possa essere la selezione della specie per via eogenetica che è un modo per eliminare anche quello il dolore dall'orizzonte le malattie e la risposta è perché l'umanità non è quella cosa che pensi tu non è il corredo genetico l'umanità è un'altra cosa che senza il corregio genetico non riesce a muovere le mani a articolare a pensare ma non è solo il corredo genetico probabilmente neanche i cani solo che non riusciamo diciamo che l'abbiamo chiesto ma di sicuro non noi in una selezione eugenetica Hawking non sarebbe sopravvissuto beh sarebbe stato un grosso perdita in una selezione in una selezione tesa al piacere della vita Leopardi non avrebbe fatto un passo beh sarebbe stato un grosso perdita l'umanità è tutto questo però si la lascio sospeso la cultura non è un antidoto alla mostruosità perché in realtà la mostruosità è un pezzo della cultura ma la conoscenza della propria storia dovrebbe esserlo dovrebbe aiutare molto dovrebbe aiutare molto ed è un serio enorme peccato quando sento dire perché noi abbiamo poi istituzionalizzato le cose nel giornata del ricordo il giornata dell'olocausto quando sento dire nel corso di queste che poi inevitabilmente diventano ritualità è ancora questa storia sì in effetti la ricorrenza porta a questa reazione ma è una storia che non possiamo mai cancellare intanto perché ne siamo autori non noi personalmente ma il nostro mondo la nostra Italia ne è stata autrice l'Italia ha fatto le leggi razziali prima degli nazisti perché sia chiaro casomai qualcuno pensasse diciamo ce l'hanno imposti i nazisti abbiamo fatte prima di loro non possiamo cancellare e dovrebbe essere di grande educazione naturalmente poi anche quella è stata una cultura alta la sua scienza la scienza nel senso la medicina che lei frequenta deve ancora qualcosa alle ricerche fatte da quel mondo lì e ciò non di meno furono delle mostruosità ciò non di meno però fanno anche quelle le abbiamo interiorizzate quindi la cultura non è un antidoto ma l'umanità sì l'umanità è un antidoto e quando si guardano anche le cose di oggi io sono per un approccio cinico io devo poter scegliere chi entra e chi non entra tra quanti non sono perseguitati cioè da quanti vengono per convenienza giustamente ma non posso stabilire una differenza in base all'umanità o in base alla fede o in base al colore perché il giorno in cui io avrò fatto questa distinzione non avrò offeso il musulmano il nero avrò affondato definitivamente me stesso cioè avrò cancellato la mia cultura sarò io quel giorno ad avere perso tutto non ci sarà più bisogno dell'autore francese che mi viene a parlare della soccombenza tanto avremmo mi sono già auto eliminato da solo questo è la cultura credo che possa combattere ad armi pari con una cultura molto forte molto presente molto solida nel nostro mondo e che ha partorito quei mostri non dimentichiamoci che noi nel secolo scorso e mi taccio nel secolo scorso di mostri ne abbiamo partoriti due peraltro figli dello stesso ceppo cioè dello stato etico e di Hegel il comunismo e il nazifascismo li abbiamo fatti noi i russi poi se l'hanno presa diciamo per contagio ma quella è roba nostra è roba anglo-tedesca come formazione e naturalmente abbiamo partecipato anche noi italiani però abbiamo fatto anche altre cose tutto sta riuscire ad affermare le altre cose che siamo riusciti a fare e a far combattere questa partita culturale ma è un tema talmente vasto che meriterebbe una giornata a parte oltre che una nottata terminale ci sono altre domande buonasera anch'io volevo fare un'osservazione su uno dei temi trattati nella prima parte e cioè mi è sembrato un po' reduttivo imputare il calo demografico a un fatto un po' semplicistico come l'egoismo non è questo innanzitutto credo che appunto sia una parola che è un po' sbagliata perché credo che sia stata anche la parola che è stata usata per aborto per il divorzio e abbiamo visto che è molto più complessa di così la questione dopodiché c'è anche il fatto che finalmente c'è stato un cambio nei costumi nella struttura familiare non c'è più pressione sulle donne si possono fare scelte diverse innanzitutto e appunto se negli anni 50 una donna che voleva una struttura familiare non voleva la classica struttura familiare veniva considerata pazza e adesso no non mi sembra che appunto la linea di confine sia dettata proprio dall'egoismo e poi dopodiché c'è anche il fatto che sì è difficile mantenere dei figli o giornalogi sì è più facile mantenere un cane ma anche per queste pratiche nel senso che una coppia lavora lavorano entrambi tanti in situazioni precarie ok non abitiamo più vicino ai nostri genitori perché io sono di Milano vivo a Milano e i miei genitori abitano da un'altra parte tante donne perdono il lavoro per la gravidanza questo è un dato di fatto perché le situazioni sono precarie io ho la partita IVA non saprei da che parte girarmi e niente questo un bambino non puoi lasciare la casa da solo e cane puoi lasciare la casa da solo ci sono tutta una serie di pressioni una serie di cambiamenti sociali e anche proprio nella psicologia delle persone strutture familiari non c'è più la pressione anche un po' religiosa se vogliamo della donna come procreatrice come portatrice unica di questa cosa per cui ecco semplicemente questo passaggio mi è sembrato un po' un po' tirato in lì e definire appunto la questione del problema come pure egoismo o tatuaggi che proseguo mi sembra un po' così semplicistico ecco ci sono altre domande in merito alla battuta che ha fatto prima sulla sovranità popolare e quindi ci verrà tagliata la testa quindi lei pensa che sia meglio la monarchia insomma volevo una risposta in merito alla sovranità se reputa sia meglio la sovranità popolare oppure la monarchia dato che così viene tagliata una sola testa guardate vi rispondo velocemente a tutti io sono repubblicano e laico quindi perché sia chiaro sulla monarchia no no è quello della sovranità comincio da questo perché più semplice era un paradosso naturalmente nel senso che la sovranità assoluta semplicemente non esiste perché non esiste l'assoluto potere sulle cose del mondo quando questo diciamo perversione capita in capo a una persona normalmente nella storia lo ghigliottinano quando capita molte persone creano delle tragedie ma non è che le ghigliottinano anche perché bisognerebbe trovare qualcuno il mastro titta della situazione creano delle tragedie perché creano delle illusioni da qualche parte hanno creduto che l'economia è pianificata e quindi lo Stato che stabilisce cosa si produce quanto dove avrebbe aumentato la ricchezza di tutti si è dovuto soccorrere i conicini reali perché non c'avevano più nulla da mangiare quindi questa era stata una forma di pretesa di sovranità assoluta che ha portato a una tragedia di questo tipo ma no naturalmente non corriamo rischi di questo tipo però meglio avvertire perché non so quante volte è stato ripetuto in questi anni il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo detta così però non significa assolutamente non è che significa che puoi decidere quello che ti pare ci sono cose che non dipendono dalla tua decisione per esempio se campi a debito il fatto che gli altri ti prestino dei soldi non dipende dalla tua decisione ma dalla tua capacità di essere affidabile nei confronti di quanti ti devono prestare i soldi se no i soldi non te li prestano e tu sovranamente andrai in bancarotta quindi questa era la differenza la questione della procreazione una cosa sono riuscito a capirla in diversi anni e cioè che i figli ripartoriscono le donne questo felice l'arrivato però li fanno in due normalmente insomma è la responsabilità della filiazione è una responsabilità di coppia in realtà al di là delle esagerazioni qualche volta macchiettistiche questo è sempre stato chiaro è sempre stato così però è una divisione dei ruoli che oggi consideriamo inaccettabile cioè la divisione dei ruoli uno procura i beni diciamo di consumo i denari e l'altro provvede alla cura del focolare domestico e all'allevamento dei bambini questo tipo di divisione ci sembra oggi giustamente del tutto inaccettabile ma non è vero che sia questo a portare a meno prolificità per esempio se fosse così ne deriverebbe che dove le donne sono meno impegnate nel mondo del lavoro noi dovremmo avere una natalità più alta e dove sono più impegnate una natalità più bassa si si no no su questo su questo non c'è dubbio però segue il ragionamento noi abbiamo un esempio che sta dietro dietro l'angolo cioè dietro il confine la Francia in Francia hanno un tasso di natalità superiore a quello italiano e hanno un tasso di partecipazione delle donne al lavoro superiore a quello italiano e la differenza l'esatto opposto l'esatto opposto no non è così non è così in Francia ci sono tutele per il lavoro della donna incinta e della madre nei primi mesi di gran lunga più basse che in Italia quindi non sono più alte qual è la differenza che però fa una grossa differenza uno la permeabilità del mondo del lavoro cioè tu esci ma poi rientri secondo il problema io vedo che tutti quanti si impegnano poi con questa cosa della parità dei sessi quindi anche i tre mesi di congetto parentale per il papà tutto si può concepire però nei primi tre mesi il papà l'ho fatto anche questo mestiere non è che abbia questo ruolo fondamentale nel rapporto col bambino il problema è che i bambini non è che devono superare i tre mesi e poi gli dai le chiavi di casa e dici adesso ti arrangi tu la differenza per esempio con la Francia sono i servizi per la famiglia cioè da una parte io a te donna lavoratrice non garantisco nulla rispetto alle tue scelte per l'appunto di vita vuoi mettere su famiglia vuoi avere tanti figli fai quello che vuoi però è una tua scelta privata quindi è chiaro che durante quel momento non sarai al lavoro però se quando vuoi essere uscita vuoi rientrare potrai rientrare è il problema della infanzia non è solamente quello dell'allattamento come è assolutamente ovvio è una cosa che va molto più in là perché i bambini poi devono andare a scuola poi c'è il tempo pieno poi c'è la mensa noi stiamo ancora a parlare della mensa poi c'è lo sport il tempo libero cioè sono tutte cose che se non le organizzi poi alla fine c'è il famoso soggetto accompagnatore molti tentano organizzarsi utilizzando terzi e infatti diciamo così questo è un paese in cui dice basta immigrati e poi alla fine gli affidiamo le cose più care che abbiamo nella vita cioè i genitori e i figli perché insomma sono quelli che prefate per gli accompagnamenti l'aspetto della scelta che è una affrancamento dalla condizione di natura cioè a parte che gli anticoncezionali sono sempre esistiti però meno efficaci diciamo di quelli che utilizziamo oggi quando diciamo la libertà di scelta cosa diciamo diciamo l'uso degli anticoncezionali o per carità uno dice pure può essere la libertà di scelta l'astinenza però normalmente sono gli anticoncezionali oggi ne abbiamo capaci di darci maggiore possibilità di scelta però per quanto l'anticoncezionale possa metterlo uno o assumerlo l'altro però è sempre una scelta in due perché io lo so che tu non vuoi dopodiché se io non sono d'accordo anch'io sono libero di scegliere e viceversa ovviamente e secondo perché la libertà di scelta dovrebbe portare a una minore natalità perché sarebbe come dire che invece la natalità cioè il fare figli sia una minore libertà della persona e non è propriamente io sono per la libertà di scelta e sono per gli anticoncezionali su questo non ho alcun dubbio così come sono favorevole al divorzio non ho alcun dubbio su questo e il meccanismo di trasposizione di questa libertà in automatica crollo della natalità che in realtà ha bisogno di un'altra motivazione quella è solamente la tecnica il martello voglio dire che mi sono dato sul dito è stato fatto per piantare i chiodi perché me lo sono dato sul dito no no lasci perdere i modelli lasci perdere i modelli perché i modelli dice mia nonna mia zia poi si scopre che anche la nonna faceva la bella vita quindi non è che i modelli spesso sono anche un po' fantasiosi e ce li costiamo il problema è fare o non fare figli noi siamo siamo a 1.2 figli si misura così non è una questione sessista a 1.2 figli per donna quella roba lì significa una società in decrescita perché ovviamente siccome una donna lo fa come un uomo il minimo per stare in equilibrio sono due figli a donna sopra i due figli a donna siamo di fronte a una società che cresce sotto i due figli a donna siamo una società che decresce noi siamo a 1.1 1.2 cioè decresciamo molto consistentemente che questo sia frutto di una scelta lei mi dirà ma è il frutto di una sommatoria di scelte private e io devo il problema che mi devo porre è ma come ci siamo arrivati a quella sommatoria di scelte private perché ci sono paesi dove il numero di donne parlamentari il numero di donne governanti il numero di donne al lavoro soprattutto perché lasci perdere i governanti e i parlamentari il numero ristretto soprattutto il numero di donne al lavoro è enormemente superiore a quello dell'Italia e la natalità è più alta che in Italia questo è il problema che devo porre mio dopodiché ci sono due combinazioni infatti le avevo parlato prima avevo parlato non lei in generale prima del passaggio dalle case multifamiliari alle monofamiliari il monofamiliare che era un problema ovviamente perché nelle case multifamiliari però quello sì che era un modello patriarcale perché c'era sempre l'anziano comandante diciamo in qualche modo per non parlare dell'anziana governante su quale c'è l'ampia letteratura nella famiglia mononucleare comporta degli aiuti ora o sono aiuti privati o sono aiuti sociali gli aiuti sociali funzionano perfettamente questo però comporta fare delle scelte per le quali io sposto denari da gli anziani a i più piccoli perché li considero un investimento io sono favorevolissimo ma noi stiamo facendo l'esatto contrario spostiamo denari sugli anziani questo è un modello culturale che porta quel tipo di conseguenze perché siccome lei non lo partorisce un anziano che sta garantito partorisce un bambino che non è assistito alla fine dice guarda questa me la risparmio questo è un modello culturale è un modello sociale mentre i modelli culturali o religiosi eccetera ho l'impressione che siano più un archetipo culturale che sta nella nostra testa che non la realtà perché a me pare da laico quindi da non da non frequentatore del ramo a me pare che questo sia un paese in cui tutti sono fedeli ma insomma ai riti comandati non ci vedo quasi nessuno e con una certa invidia della prestazione nei confronti di altre confessioni religiose dove i fedeli sembrano sempre fedelissimi ma perché li prendi riprende la telecamera nel giorno di Pasqua alla Santa Maria e lì è facile la loro cosa sembrano tutti devoti ma in realtà la secolarizzazione di cui sono un grande fautore e sostenitore però dei problemi relativi ai criteri morali da accompagnare o se si vuole sostituire comunque lo crea perché una cosa ci è del tutto chiara ma proprio chiara chiara che ciascuno deve essere libero di fare le scelte che crede senza metterle in conto agli altri però tu puoi fare le scelte ma una società di anziani è una società di disperati questo mi pare assolutamente evidente una società che diventa progressivamente più vecchia è una società di disperati e per sopravvivere chiederanno trasfusioni di sangue da altre parti altro che i 165 mila per pareggiare i conti delle pensioni quindi per evitare questo probabilmente bisognerà fare non delle campagne culturali dicendo ai ragazzi fatemi mettere incinti ai ragazzi dagli che ce la fai ma delle campagne per spostare denari dall'assistenza dei più anziani all'assistenza dei più giovani perché questo è un modello che porta alla produzione tra l'altro i paesi che vedono crescere la popolazione vedono crescere il PIL e i paesi che vedono decrescere la popolazione vedono decrescere il PIL non fosse altro per questo un minimo diciamo di relazione fra le cose effettivamente la vedo allora innanzitutto volevo fare un po' di outing dicendo che ho un Labrador oltre che due figli quindi grande complessità al di là adesso della battuta diciamo mi piacerebbe capire si è fatto un'analisi molto lucida siamo tutti immersi in questo presente però il grande tema è il futuro cioè come ci arriviamo a questo futuro con questo paese mediocre con questa mediocrazia che ci disegna le regole sopra la testa cioè c'è bisogno veramente di un cambio di passo di visione e anche di regole perché se non le cambiamo queste regole nessuno scenario futuro potrà essere realmente concreto assolutamente sì la grande differenza quella è che mio nonno viveva come ho già detto in una casa con cinque figli e i pasti erano una cosa abbastanza relativa comunque fatti a base di prevalentemente di cereali frutta e ortaggi ma era assolutamente sicuro che i suoi figli avrebbero fatto una vita migliore della sua anche perché lui si era fatto due guerre mondiali quindi ci voleva pure poco i miei genitori la generazione dei miei genitori quindi più o meno anche dei vostri ha vissuto meglio dei propri genitori ma è vissuta anche nella convinzione che i loro figli cioè noi avremmo fatto una vita migliore di quella che hanno fatto loro e hanno indovinato perché noi abbiamo avuto più possibilità economiche più possibilità culturali abbiamo potuto girare il mondo che loro non hanno girato abbiamo fatto tante cose che loro non avevano potuto fare noi ci siamo convinti che i nostri figli non avranno una vita migliore della nostra perché ci siamo convinti che la parte migliore della nostra vita è quella del nostro passato la ragione di questa convinzione le ragioni sono molteplici ma la ragione principale di questa convinzione sta nelle due curve di cui vi parlavo prima noi abbiamo visto crescere la nostra ricchezza nazionale al tempo stesso contro quello che dice qualsiasi assennato un manuale d'economia abbiamo speso in deficit e in debito cioè non abbiamo speso in deficit e in debito quando andavamo in recessione come fa un buon medico quando c'è un collasso ti tira su no, noi abbiamo continuato a tirare su tirare su un corpo che stava producendo questo ha comportato che noi abbiamo consumato noi come generazione abbiamo consumato più di quello che abbiamo prodotto e guardando chi viene dopo di noi dici non ce la farete mai e siccome il mondo quale io vengo è quello che consideravo migliore ti dico che tu vivrai peggio di me ma non è così perché quando si libereranno da questo incubo quando si libereranno dai mantenuti e dagli assistiti quando si libereranno dalla nostra generazione eh? lo faranno lo faranno inventando le cose guardi l'età guardi l'età dei 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 guardi l'età dei nostri ingegneri in giro per il mondo guardi l'età dei nostri ricercatori in tanti campi eh italiani ma adesso oserei dire europei in generale perché insomma non è una condizione in cui noi siamo particolarmente aggravati ma non è una condizione sconosciuta in altre parti d'Europa la stessa Francia eh c'è una capacità di innovazione assolutamente superiore eh pensate alla all'enorme frontiera della economia digitale che non è vendere application sullo smartphone agli anziani come me che non sanno manco utilizzarla quindi ma è vivono i nostri figli sono sono nati sono nativi digitali eh quindi c'è una differenza straordinaria di capacità eh pensate alle lingue chiunque ha girato il mondo è una differenza straordinaria di capacità ecco se dovessi darvi un suggerimento di di vacanza quindi siamo siamo nel tempo lì ancora una volta nello spreco dei soldi nostri ecco fate un salto in Israele in Israele pulula di start up di iniziative tecnologiche e ovunque voi andiate c'è uno sciame di bambini che vi segue che sembra un film sulla Napoli degli anni 50 ecco non si può sostenere che in Israele sono più sicuri stanno meglio di noi perché la loro esistenza è ancora minacciata da taluni che sostengono che devono essere cancellati dalla carta geografica ma hanno un atteggiamento positivo nei confronti no erano questioni di testa erano questioni di testa non hanno mai consumato più di quello che hanno prodotto non hanno allevato una generazione di mantenuti e di viziati e non hanno prodotto una classe politica quella di Israele fenomenale quantomeno multicolore voglio dire ma non hanno allevato una classe politica che cerca disperatamente di dare ragione al peggio che c'ha davanti il nostro problema è proprio quello il nostro problema è proprio quello il paese che ha il più alto debito pubblico d'Europa lascia perdere la Grecia ma per carità non facciamo paragoni tra la macchina produttiva italiana e quella greca noi abbiamo visto avvicendarsi governi di diverso colore Renzi voleva fare di batteremo i pugni faremo un deficit del 2.9% e poi abbiamo giustamente dato dagli incoscienti a quelli del governo Conte 1 che volevano fare il 2.4% e adesso facciamo il 2.0% perché siamo riusciti a risparmiare qualche cosa sul reddito di cittadinanza e quota 100 cioè alla fine quello che preoccupa della proiezione collettiva della nostra incoscienza non è quello che ci divide è quello che ci unisce il problema delle forze politiche non è in cosa non sono d'accordo ma in cosa sono d'accordo sono tutti convinti che il problema di un paese che ha il 132% di debito sul PIL consista nell'aumentare il debito e se sono tutti convinti di questo è perché sotto c'è un paese che è convinto di questo se ci daste ancora soldi se lo Stato facesse gli investimenti che cacchio sono gli investimenti dello Stato nell'assumere qualche altro precario nella scuola per formare altri analfabeti questo è il punto allora uscire ma non lo devi chiedere alle regole devi chiederlo a te stesso cioè devi dire cosa sto raccontando a me stesso della mia vita perché quando me li sarò guardato allo specchio e mi sarò riconosciuto per quello che diavolo sto facendo quel mondo politico e quindi quelle regole ma sparisco in un attimo perché sono falsi sono falsi come una bancorota da 3 euro sono inesistenti non hanno base culturale non conoscono la storia non conoscono la geografia non conoscono l'economia l'unica cosa che conoscono è la capacità di andare in televisione e dire 4 minchionerie una pressa all'altra ma con aria felice e sorridente perché bacioni l'importante è non sembrare aggressivi ma tutto questo è possibile non perché loro sono così ma perché sotto c'è un paese che è così c'era ragione il grande Petrolini che lavorava durante il fascismo Petrolini fece la parodia del duce che era Nerone faremo Roma più bella più grande che Priia bravo bravo grazie e poi si inseguivano bravo grazie il fascismo che lì fu intelligente più di Berlusconi quando critica la satira gli diede un premio perché disse questo qua lo premiarono e lui ritirò il premio dicendo lo mise al bavero e disse me ne fregio che era assolutamente geniale che era detto davanti alla bussolini che faceva me ne frego a lui me ne fregio c'era ragione il grande Petrolini che una volta a teatro c'era uno che continuava a disturbarlo dall'oggione si ruppe l'anima fece un passo avanti e disse oh io non ce l'ho con te perché tu così ci sei nato io ce l'ho con quello che te sta accanto e non te butta di sotto eh io ce l'ho con noi che stiamo accanto non li buttamo da sotto vengo a ringraziare nuovamente Davide Giacalone che con il suo importante intervento ha portato a termine questa prima giornata del nostro festival proseguo ora con ricordarvi gli eventi che si terranno nella giornata di domani alle ore 7 e 15 Davide Giacalone sarà in collegamento da Sciabaca da Soveria Manelli con la radio RTL collegamento che verrà trasmesso in diretta no se non me ne andate possiamo fare a scena alle ore 9 e 30 nella chiesa di San Giovanni Battista ci sarà l'esposizione straordinaria del Codex Purpureus Rosalensis uno la replica di uno tra i più preziosi tesori dell'umanità visitabile fino alle 20 alle ore 11 si terrà l'evento si Soveria Manelli un urban tracking volto alla scoperta delle storie che hanno caratterizzato i luoghi i monumenti e le aziende del nostro paese mentre alle ore 13 in Piazza dei Mille ci sarà il pranzo a sacco allietato accompagnato dalle musiche dell'associazione Felice Conflenti gli eventi che si terranno invece domani pomeriggio verranno poi ricordati nel corso della giornata grazie a tutti e una buona nottata grazie a tutti grazie a tutti